Eccoci qua amici, siamo per il pre-partita, è Calozio Dubino, siamo qui con Speziale Stefano. Oggi purtroppo sei infortunato. Oggi sì, mi toccherà tifare i miei compagni dalla panchina. Speriamo di portare a casa punti che per noi sarebbero davvero importanti oggi su questo campo. Molto difficile, oserei dire. Infatti siete invischiati nella zona play-out e quindi avete bisogno proprio di punti, li cercate qui a Calozio. Sì, diciamo che vogliamo continuare sulla striscia positiva iniziata a Grosio domenica scorsa. Già, vincere sarebbe molto bello, ma comunque portare via punti a un Calozio che gioca per i play-off non sarebbe assolutamente niente male. Il Calozio Corte gioca con il 4-4-2 fra i pali Puzzoli, Palsecchi, Balossi, Rota, Valentino, Mauri, Todeschini, Tentori, Mirko, Visconti, Perri, Pagnoncelli, allenatore, Monzani, Mirko. Mentre il Dubino gioca con il 4-4-2 fra i pali Pandiani. Conforti, Ambrosini, De Petrina, Pirondini, Giannoni, Caprani, Belotti, Oliva. Acquista pace, Copes, allenatore Tarabini. Arbitro della partita il signor Davide Zamagna della sezione di Saronno. Ed ecco le due formazioni che stanno per entrare in campo. In maglia Amaranto il Calozio Corte che è quarto in classifica con 30 punti. Mentre in maglia bianca è la squadra ospite del Dubino che in classifica è solitario al treccesimo. Posto con 15 punti. Fallo laterale con Valentino. Attenzione, cross e colpo di testa di Pirondini. Il pallone va dall'altra parte del campo. Poi Tentori. Attenzione, commette fallo su Oliva. Passaggio a Perri sull'out sinistro dell'attacco del Calozio. Passaggio a Todeschini. Dall'altra parte la corrente Valsecchi. Attenzione, ritorni il pallone. Ancora Perri sempre lì. In avanti il Calozio. Attenzione, attenzione. Gioca col pallone Perri. Attenzione, trova questa sponda aerea Pagnoncelli. Attenzione, attenzione all'attacco del Calozio. Ma poi Conforti rinvia. In avanti la squadra locale. Fallo laterale con il capitano Valentino. Pallone. Attenzione, sempre lì. Attenzione a Todeschini. Immediatamente cross di sinistro. Questa piccola mischia in area. Poi Pandiani esce sicuro sulla corrente Rota. A centrocampo Perri. Attenzione, smista molto bene sull'out destra la corrente Valsecchi. Immediatamente cross, ma è ben piazzata la difesa del Dubino. Il pallone è sempre lì. Stazione in prossimità del centrocampo con Perri. Passaggio alla corrente Valentino. Continua ad insistere il Calozio. Crossi in area. E' uscita a pugni chiusi di Pandiani. E qui termina il primo tempo della partita. La squadra di casa del Calozio ha proposto e ha provato di imbastire qualche azione degna di nota. Mentre la squadra valtellinese si è vista veramente poco, provando solo qualche ripartenza. Cominciato il secondo tempo. Attenzione, centrocampo Caprani. Poi verso Giannoni. Lancio sull'out destro per Copes. Attenzione che evita Balossi. Sta per entrare in area. Attenzione, tira. E Pozzoli mette in calcio d'angolo. Ha cominciato molto bene la squadra ospite. Il secondo tempo. Si ripropone in avanti con Perri il Calozio corte. Passaggio a Todeschini sull'out sinistro. Il ritorno, il passaggio sempre a Perri. Attenzione. Passaggio a Tentori. Questa finezza. Passaggio filtrante per la corrente Valsecchi. Attenzione. Tira questo pallonetto che passa poco lontano alla destra di Pandiani. E qui c'è la sostituzione. Esce uno spento. Pagnoncelli. Prova a dar peso all'attacco. Monzani con l'ingresso di Manzoni. Sesto calcio d'angolo per il Calozio che prova a premere sull'acceleratore. Attenzione sul pallone Todeschini. Pallone in area. Colpo di testa di Valsecchi che sfiora il gol alla destra di Pandiani. Pallone in avanti con Valentino. Fallo laterale verso Todeschini. Attenzione. Pallone viene buttato in avanti. E c'è la svirgolata di Conforti. Attenzione a questa azione. Pericolo per il Dubino. Pallone rimane lì. Attenzione a Perri che tira. E parata in tuffo di Pandiani che poi si infortuna. Siamo giunti al 34esimo del secondo tempo. In avanti a squadra ospite. Attenzione. Fallo laterale con Conforti. Attenzione a questa piccola mischia. Il pallone rimane lì. Per il nuovo entrato. Buzzi. Passaggio. Attenzione ad Oliva. Immediatamente il cross per la corrente. Belotti. E Pozzoli mette in calcio d'angolo. Che occasione per la squadra del Dubino. Calcio di punizione con Perri. Pallone in area per la corrente rotta. Che manda di poco sopra la traversa. Comincia ad insistere la squadra locale. E qui vedete il pubblico della squadra locale del Calozio. Che si impazientisce. Perché vedi che la squadra non riesce a trovare il gol. Non riesce a spaccare la partita. Attenzione. Prova a riproporsi in avanti il Dubino. Ma c'è questo fallaccio di Perri su Oliva. Che ha rischiato di macchiare la sua ottima prestazione. E siamo giunti al 44esimo del secondo tempo. Calcio di punizione per il Calozio. Attenzione a Rota. Che tira dalla distanza. E paratona di Pandiani. Che vola e mette in calcio d'angolo. Ma rivediamo a replay questa sassata di Rota da oltre 30 metri. E la prodezza del numero uno del Dubino. Pandiani che salva la sua squadra. Fallo laterale con Perri sull'auto sinistro verso il nuovo entrato. Di sconti. Attenzione. Subito di prima da parte di Perri. Attenzione. In spaccata. Manzoni mette fuori con una leggera deviazione di Pandiani. Assalto finale. C'è il conseguente calcio d'angolo con Perri. Siamo davvero alle battute finali. Attenzione. Colpo di testa di Manzoni. E paratona di Pandiani. Ma rivediamo la prodezza del portiere ospite. Che parata. Che parata. E davvero qua la partita su questa azione finale. Assalto del Calozio. Finisce la partita. Infatti l'arbitro decreta la fine delle ostilità. C'è quindi il rimpianto per il Calozio corte. Solo un punto con il Dubino. Un pareggio con il rammarico di due punti persi. Per consolidare la posizione di alta classifica per i ragazzi di Monzani. Tardivo risveglio caloziese. Con Pandiani protagonista per il punto dei Valtellinesi. Bene amici sportivi. Siamo qui per il post partita. Calozio Dubino. C'è grossa delusione mister. Per il Calozio. Perché quest'oggi è lasciato un po' a desiderare. Diciamo che alla fine è un pareggio che ci può anche stare. Alla fine il loro portiere ha fatto due grosse parate. In cui come non c'è da dimenticare. Un cinque minuti prima. La gran parata nel nostro portiere. Sul colpo di testa di un loro giocatore. Diciamo che poteva girarci meglio verso la fine. Però è andata così. Dunque alla fine niente di male. Siamo al quarto risultato consecutivo. Abbiamo fatto le ultime quattro partite 10 punti. Penso che il trend è molto positivo. E non dobbiamo demordere. Gli altri davanti comunque non stanno sbagliando. Stanno vincendo. Però noi comunque siamo ancora in scia. Per avere l'obiettivo di poter arrivare più in là possibile. O per l'obiettivo playoff. Che è quello diciamo predestinato anche all'inizio campionato. Poi si può anche solo che migliorare. Adesso vediamo. Comunque diciamo sono contento della partita. Anche perché alla fine ci mancava anche un giocatore un po' fondamentale per il nostro tipo di gioco. Che è Raba. Però chi ha giocato? Ha giocato. Ha fatto molto ma molto bene. Diciamo niente di recriminare. Abbiamo avuto un paio di azioni. Un paio di mezze palle. Non sfruttate al meglio su disattenzioni loro. Però va benissimo. Niente di recriminare. Anzi complimenti ancora ai miei ragazzi. Perché alla fine ripeto siamo al quarto risultato consecutivo. Certo la speranza è sempre vincere. Ma non è che si può sperare sempre di vincere certe partite. Accettiamo anche il pareggio. E' la buona partita del Dubino che è venuto a fare in casa nostra. Bene infatti mancava Raba oggi. E infatti si è notato perché avete giocato quasi tutta la partita con una sola punta. Il problema delle una o due punte non è che se si gioca con sei punte fai sei gol o giochi con due punte fai due gol. Noi giochiamo bene o male sempre così. Ho preferito anche per mancanza un po' di giocatori. Perché ripetiamo noi abbiamo solo due attaccanti che uno è Pagnoncelli e uno è Manzoni. E' rientrato, ho fatto ancora rientrare oggi che è rientrato l'infortunio Perry, Mattia. Ho voluto sfruttarlo dietro la prima punta che secondo me lui ha fatto molto molto bene. Ma di per sé come Pagnoncelli ha fatto bene nel primo tempo. Se li faccio partire tutti e due assieme poi c'è qualcosa che non va. Comunque non ho una grossa alternativa. Cioè fare le partite tutti si poteva fare come domenica. Ma poi magari domenica è stato un po' penalizzato Manzoni che magari non ha fatto una buona partita. Automaticamente se capita anche oggi io non ho strutturalmente fuori un altro attaccante. Cioè noi purtroppo abbiamo solo due attaccanti. Si possono giocare tutti e due assieme ma nello stesso tempo può giocare benissimo anche Perry. Dietro le punte che infatti col Grosio ha giocato i primi 20 minuti. e aveva giocato benissimo che hanno giocato sia lui e Pagnoncelli assieme. Diciamo un po' strutturalmente magari ci manca anche un altro tipo di attaccante che in questo momento non abbiamo. Noi siamo questi. È stato pensato di partire così per avere magari sfruttare il secondo tempo. In caso se dovessi recuperare la partita. Infatti ho tolto Pagnoncelli e ho messo Manzoni. E penso che comunque Manzoni è entrato veramente bene perché mi hanno creato qualcosa in più che ci serviva. Ho tolto comunque Mauri e ho messo l'altro fratello gemello Luca. Infatti la partita è cambiata. Nel senso che abbiamo avuto un po' più fase di offensiva. Eravamo più in aria, più presenti a attaccare. Poi con i secoli ma tutti vincono. Bisogna capire anche la partita che si va a contare. L'avversario che si è incontrato. Io ripeto, tutti vorrebbero sempre vincere. Ma purtroppo il gioco del calcio è anche questo. Si accetta il pareggio, non richiedono niente i miei. Questi sono i giocatori che ho e io sono contentissimo. Anche che è giusto che l'allenatore, io che sono in settimana e che li vedo, sfrutti anche altri giocatori. Perché è giusto che il gruppo deve essere coeso, tutto assieme. E le partite si possono vincere tutti. Che giochi la squadra di domenica scorsa, che giochi la squadra di oggi, non deve cambiare niente. E penso che non si è cambiato niente. È vero che l'unico punto dove si è un po' notato è la mancanza di Raba. Perché lui sia come qualità, come tutto, specialmente quest'anno, sta facendo cose importanti. Ma niente da recriminare. Io sono contento della partita, sono contento del punto che... Certo, se erano tre, è logica che sei più contenti. Però, ripeto, siamo al quarto giuntato consecutivo in cui tre vittorie e un pareggio. Penso che noi siamo soddisfatti, io sono soddisfatto. Poi, chi non è soddisfatto, se ne faccia una ragione. Il campionato va avanti e io cercherò comunque al massimo di arrivare minimo, minimo nei play-off. Ma puntare ancora lì davanti perché io non do per scontato, finché non vedo la fine del campionato, non do per scontato di poter arrivare ancora davanti. Perché siamo comunque a nove punti e non sono pochi. Ma nello stesso tempo non sono tanti. Abbiamo visto che all'inizio del ritorno tutti hanno lasciato punti in giro. E non è detto che possa succedere ancora. Bene, amici sportivi, siamo qui per il post partita a Calolzio Dubino. Avete fatto un'ottima impressione qui a Calolzio. Siamo questi. Probabilmente stiamo capendo la categoria. Forse riusciamo anche, oltre che capire la categoria, facciamo anche qualche punto in più. E questa è la nostra forza, un po' la volontà, la grinta e anche un po' di capacità. Perché comunque ci sono degli elementi di spessore. Ecco, questa è la nostra impressione. Sicuramente, mister, è un punto molto importante perché da morale continua il campionato domenica prossima. Quindi siete oltretutto ancora nei play-out. Dovete risalire alla classifica, insomma. Sì, il punto è fondamentale, cioè fondamentale, è importante anche per dare comunque una tranquillità anche ai ragazzi nel modo di affrontare le partite, nel giocare. Il punto qua è importante perché giochiamo comunque, abbiamo giocato contro una squadra di livello. Sicuramente una delle più titolate della categoria, per cui è importante. Amici sportivi, siamo qui in compagnia di Pagnoncelli Marco. Oggi la difesa del Dubino è stata davvero bravissima perché ti ha bloccato e quindi sei rimasto con lo score di 7 gol. Esatto, sì. Ho fatto fatica più che altro perché loro erano molto chiusi dietro, quindi riuscire a entrare anche per vie centrali così era molto difficile. Sì, è stata una partita ostica, da pareggio, da 0-0, un po' come quella dell'andata, insomma. Partita così, vabbè, contentiamoci del punto oggi. È il tuo obiettivo con le doppie cifre dei gol? L'obiettivo sì, è sempre quello, è fare più gol possibili. Ovviamente poi arrivare più in alto possibile con la squadra e niente. Sicuramente la doppia cifra è l'obiettivo. Adesso vediamo un po' di riuscire ancora a tornare a fare gole che mi manca un po' da qualche domenica, insomma. Bene, amici sportivi, sempre con il post partita a Calozio Dubino, siamo qui con il portiere della squadra ospite. Dobbiamo dire che sei stato veramente il migliore perché hai fatto due paratone di quelle vere che hanno contribuito a un buon pareggio del Dubino. È stata dura oggi a Calozio perché sappiamo che era un campo difficile, abbiamo messo quello che potevamo mettere, perché le paratine sono venute così con l'allenamento. No, sono portiere di riserva, però come dico tutti i portieri di riserva, allenarsi, allenarsi e poi i frutti vengono da sé. Siamo qui in compagnia di Perri Mattia. La tua prestazione è stata ottima, però non è bastato perché il Dubino quest'oggi non vi ha fatto davvero giocare. Squadra tosta, valtellinese, tutti chiusi, hanno difeso almeno in 7-8 persone, giocavano su due ripartenze, siamo stati un po' sfortunati, forse secondo tempo non avevano trovato il primo gol ed è finita così. Purtroppo bravi loro a difendersi. Molto probabilmente anche dagli spalti dicevano di inserire più punte in avanti per dare più peso, ma non è veramente bastato e forse non è stato fatto. Non è bastato, non c'è stata quella zampata che quanti infatti tutti aspettavano. Penso che l'allenatore ha messo tutto quello che aveva in panchina, quindi non vedo cosa doveva fare di diverso. Ha messo tutti quelli che poteva mettere, ho usufruito dei cinque cambi e siamo stati un po' sfortunati. Via così dai. Ecco, infatti allora domenica prossima dove andate a giocare così teniamo aggiornati tutti gli sportivi di Calolzio. Andiamo a giocare a Civate, anche lì campo ostico perché lì servono punti per salvarsi e speriamo che siamo un po' più fortunati sotto porta.